Si parlerà anche di questo in queste due giorni, di come affrontare uno stadio ormai avanzato ma meno male che la ricerca scientifica ci viene comunque incontro. Senz'altro, innanzitutto ci sono dei farmaci innovativi che hanno cambiato radicalmente la prognosi di queste malattie ma poi ripeto, ritornando all'approccio multidisciplinare affronteremo anche alcune tematiche riguardanti l'approccio cardiochirurgico ed emodinamico che hanno modificato in maniera sensibile l'evoluzione delle patologie cardiache negli ultimi decenni. Si parla anche di interazione o comunque di complementarità nella cura, forse, faccio questo azzardo giornalistico, di quello che è la patologia cardiaca con la demenza o comunque con altre patologie che vanno a inserirsi in un paziente spesso anziano, non soltanto. Certo, la demenza è una caratteristica non dico comune ma estremamente frequente nel paziente ultra 75enne e si è visto che molto spesso sono proprio i fattori di rischio cardiovascolari che possono determinare un peggioramento dell'assetto cognitivo che in molti casi purtroppo sfocia nella demenza, che rende il paziente inabile, non autosufficiente e pertanto c'è bisogno dell'ausilio di caregiver e di quant'altro. Ecco, si parla anche di aritmologia, si parla di fisiopatologia, si parla però anche diciamo di come un approccio ad esempio verso il classico pacemaker che tutti conosciamo, anche in questo caso venga riconsiderato in base a nuovi canoni, nuove ricerche, non diventa più diciamo l'unica strada ma anche in quel senso ci sono altre strade percorribili. Ma ad oggi l'impianto del pacemaker nei pazienti affetti da scompenso cardiaco non dico che rappresenti una nicchia perché vi sono molti pazienti affetti da cardiopatia dilatativa che è il, diciamo, il movens fisiopatologico più frequente nei pazienti con frazioni di direzione ridotta e scompenso cardiaco cronico dicevo il pacemaker biventricolare è quello maggiormente indicato nei pazienti che hanno un ritmo sinusale, un blocco di branca sinistra, ossia che hanno un'alterazione elettrica rilevabile all'elettrocardiogramma che peggiora l'aspetto, l'assetto emodinamico del paziente. Quindi relativamente allo scompenso cardiaco il pacemaker trova una precisa indicazione. Probabilmente negli anni passati si è fatto anche un sovrautilizzo del pacemaker in tale tipologia di pazienti e proprio per questo motivo ci sarà una sessione dedicata all'elettrofisiologia in cui sarà sviscerato questo aspetto. Infine parliamo anche, diciamo, per completare questo quadro relativo all'apparato cardiovascolare di quello che può essere invece la chirurgia vascolare o comunque l'attenzione a quei fenomeni trombosi venosa profonda o comunque altre manifestazioni che spesso sono accompagnate comunque altri fattori di rischio, età, peso, diabete e quant'altro. Sì, nel congresso, in questo congresso affronteremo più che altro il problema legato agli aneurismi e alle alterazioni tipiche del paziente affetto da cardiopatia ischemica. Molto spesso il paziente coronaropatico presenta altre patologie quali possono essere una stenosi significativa della carotide oppure un aneurisma della orta scendente che in taluni casi possono essere sottovalutati. Per cui, ripeto, quando ci si trova di fronte ad un paziente affetto da cardiopatia ischemica con coronaropatia non bisogna tralasciare potenziali patologie associate comunque estremamente importanti. Diamo anche uno sguardo a quello che è il suo impegno quotidiano. Lo ricordiamo in un reparto, quello di Villa Ester, la casa di cura di Boiano in cui da sempre si è fatto questo approccio oristico. Diceva il dottor Gattozzi, lei in prima persona come responsabile di questo reparto qual è la sua esperienza quotidiana, così possiamo tracciare anche un profilo di chi si rivolge a questo tipo di sanità, come viene accolto e anche questa dimensione di ospedalità sì ma comunque in qualche modo una dimensione più umana, quasi familiare. Sì, io sono orgoglioso di dirigere attualmente questa unità operativa anche perché mi permette di affrontare quotidianamente quelle che sono le problematiche per le quali io mi sono formato. Infatti alla nostra unità operativa afferiscono prevalentemente pazienti anziani ma soprattutto pazienti comorbidi, come si dice in gergo geriatrico cioè pazienti affetti da più patologie, molto spesso con importanti problematiche che non li rendono autosufficienti e pertanto con le specifiche competenze di altri colleghi siamo spesso in grado di trattare il paziente a 360 gradi. Un paziente che va trattato a 360 gradi forse è anche quello che in questo momento ci sta guardando e che probabilmente, diciamo come fanno tante persone, è un po' orientato a sottovalutare alcuni piccoli campanelli di allarme che poi diventano più grandi si arriva a constatare appunto una malattia quando già siamo comunque in una fase avanzata. Cosa possiamo dire a chi ci guarda? Quali potrebbero essere, diciamo, degli step di una sana autoanalisi, non autodiagnosi e porsi comunque, diciamo, nell'aspetto cardiologico rispetto magari a dei controlli così come facciamo spesso con il PSA per la prostata, oltre 50 anni l'ipertensione rimane un pericolo silente, non dà sintomi evidenti e magari lo teniamo lì per anni e anni. Qual è invece l'approccio giusto verso questa, diciamo, condotta di autoprevenzione? Sì, come lei ha detto, diciamo, l'ipertensione arteriosa che rappresenta il classico fattore di rischio quello su cui si è posta maggiore attenzione anche negli ultimi decenni spesso viene tralasciato. Ci si affida alla singola misurazione, talvolta fatta in fretta non con le modalità giuste. Invece la diagnosi di ipertensione arteriosa richiede un approccio ben preciso. Spesso non si fa ricorso all'ausilio del monitoraggio ambulatorio dalla pressione arteriosa che ci permette il monitoraggio nelle 24 ore dei valori pressori e che spesso cita una misura molto più precisa di quello che può essere l'andamento della pressione stessa. Ripeto, l'ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori di rischio non dipendiamo però il fumo di sigaretta, la sedentarietà che spesso colpisce o meglio che non viene affrontata anche dai pazienti più giovani. D'altra parte la cardiopatia ischemica e quindi lo scompenso cardiaco sono patologie che trovano la loro origine nelle prime decadi di vita. Quindi in questo tipo di pazienti sarebbe stato opportuno, sarebbe stato molto importante svolgere un'attività di vita molto più regolare. Quindi diciamo per chiudere la nostra piacevole conversazione anche il movimento una medicina, una medicina preventiva da fare evidentemente diciamo già da quando si è molto giovani per avere la possibilità di evitare poi problemi quando si diventa anziani. L'attività fisica costituisce un vero e proprio presidio sanitario, tant'è che le linee guida ad esempio dell'ipertensione raccomandano prima di utilizzare i farmaci proprio di modificare lo stile di vita e le modificazioni dello stile di vita detto in maniera semplicistica consistono nella riduzione dell'introito calorico e nell'effettuare attività fisica in maniera regolare, ovviamente attività fisica di tipo aerobico. Il nostro viaggio in Molise termina qui, siamo stati ospiti del congresso regionale SICOA Molise 2018, abbiamo parlato dunque di salute e di cardiologia, in particolar modo di cardiologia in un ambito multispecialistico, olistico direi per quanto riguarda l'approccio al paziente, al paziente spesso anziano ma non soltanto. Abbiamo scoperto anche che molte patologie dell'anziano derivano proprio da una non esatta cura di noi stessi, quindi non una cura farmacologica ma semplicemente prenderci cura di noi stessi proprio da giovani, proprio in età giovanile. Quando più spesso, diciamo, consci e pieni della forza fisica di 20-30 anni, sicuramente si pone meno attenzione invece a delle condotte che poi possono invece rappresentare una ottima prevenzione e farci stare in buona salute poi quando saremo anziani. Non abbiamo scoperto soltanto questo ma tante altre cose, cose che ovviamente potremo rivedere nuovamente anche sul web, su telemolise.com. Vi invitiamo a restare con noi con le prossime puntate di Viaggio in Molise, sull'11 del Digitale Terrestre in Molise, 96 in Abruzzo, l'880 a Roma e nel Lazio e ovviamente anche su TeleMolise 2, il canale 12, su cui siamo tutti i giorni e infine il canale che ci rappresenta e trasmette tutto il giorno, tutti i giorni, il canale 212 di Molise Mio. È tutto, ai prossimi appuntamenti con Viaggio in Molise. Grazie.